Due partite che riportano alla memoria sfide memorabili, Acragas-Nissa e Gela-Enna, entrambe in programma domenica per la terza giornata del campionato di eccellenza. Sul derby tra Acragas e Nissa si è già detto tanto, adesso si attende il risponso del campo. Non si preannuncia certamente un impegno agevole, né per la squadra grigentina, con un tasso tecnico di categoria superiore e chiamata a dare continuità alle due vittorie conseguite finora, né per quella nissena allestita per giocarsela con tutte le avversarie, ma ancora in pieno rodaggio. Stesso discorso per il Gela, che insegue la prima affermazione stagionale dopo due sconfitte di fila e che tra le mura amiche affronta un'enna in grado di poter assumere il ruolo di sorpresa del girone. Le altre partite in programma, Parmonval-Mazzara, Cus-Palermo-Sciacca, Castellammare-Don Carlo-Misilmeri, Oratorio San Ciro e Giorgio Casteldaccia, Profavara-Leonfortese, Mazzarese-Resuttana-San Lorenzo.